Dalla collaborazione con i nostri tiratori che abbiamo sponsorizzato nelle diverse parti del mondo siamo giunti alla conclusione che era necessario per la nostra azienda produrre qualcosa di più interessante per coloro che operano il campo del tiro dinamico appunto per questo abbiamo pensato di creare una nuova linea di pistole chiamata Xtreme Line con la collaborazione in primis del nostro campione del mondo, il signor Groffelli Da questa cooperazione è nata una nuova linea di pistole che riguarda tutte le varie divisioni del tiro dinamico partendo dalla production per la standard fino alla open Qui per esempio vedete uno dei modelli che sono stati creati che riguarda una stock 2 Xtreme che fa parte appunto di questa nuova linea Perché abbiamo voluto fare una cosa di questo tipo? Abbiamo voluto dare la possibilità a chi opera e a chi piace sparare e tirare con armi in questa disciplina il top delle possibilità cioè avere la possibilità di avere un'arma che è pronta all'uso nel momento in cui si acquista Da qui sono venute diverse modifiche all'arma che non si vedono esteriormente perché principalmente quello che è stato modificato riguarda le componenti interne dell'arma che vanno dal cane, dalla sicura, dalla leva a scatto e dal grilletto per finire poi a tutti quei componenti che sono necessari al funzionamento dell'arma che sono le molle Questo ha prodotto una serie di nuovi prodotti che abbiamo presentato quest'anno e che presenteremo ufficialmente per la prima volta su un campo di tiro ai prossimi campionati europei che si svolgeranno a settembre in Portogallo e ci sarà la possibilità di testare questi nuovi prodotti a tutti coloro che parteciperanno ai mondiali La diversità di questi modelli al di là delle caratteristiche tecniche è come si può vedere anche da una diversa finitura che possiamo chiamare una finitura che dà delle caratteristiche completamente diverse da quelle attuali perché si tratta di un trattamento di namoceramica cioè lo stesso trattamento che si usa normalmente per indurire gli utensili di lavorazione Questo vuol dire che l'arma una volta passato questo trattamento termico sarà, non voglio dire indistruttibile, ma però sicuramente avrà una superficie completamente diversa da quello che si era usi trovare su altre armi Per finire possiamo dire che le armi, le diverse tipologie di armi che stiamo presentando hanno trovato riscontro nelle prove che abbiamo effettuato direttamente con il campione del mondo Eric Groffel e trova piena soddisfazione in quello che è l'uso delle pistole Tra l'altro l'arma verrà consegnata in una nuova valigetta con incluso una specie di garanzia firmata personalmente dal tiratore e dal campione del mondo per confermare la validità di questa nuova linea di prodotti Grazie a tutti i nostri spettatori